faccio il video di recensione di questo accessorio qua, ve lo inquadro la recensione di questo accessorio che va da qui a qui, questa cosa qua si muove a scatti vedete? clic 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 quindi quando vado in bicicletta voglio inquadrare dritto uso così se voglio inquadrare di lato gli faccio fare 90 giri di lato e rimane fermo il telefono quindi è comodissimo per me, si può utilizzare anche chiaramente in altre situazioni però ecco, magari a voi vi interessa in un modo l'attacco poi dopo volete inquadrare esattamente il contrario avete la possibilità di muovervi senza stare ad allentare video o altro quindi comodissimo, è in metallo, gli scatti sembrano sicuri i materiali sembrano abbastanza resistenti per quello che devono fare per chi vuole avere qualche informazione ancora su qual è la situazione in cui lo sto usando è un braccetto d'alluminio che voi dovete cercare arm alluminio mille accendini gopro in maniera tale che vi appare la recensione di questo articolo e poi questo è un adattatore per portare il telefono, anche questo in vendita su ebay su ebay o su amazon e quindi io in questo modo riesco ad avere il mio telefono poi lungo il percorso, vedete da qui ho attaccato con il velcro dual look una batteria di 10.000 mAh così riesco a tenere costantemente il telefono sotto carica appena lo inserisco qua dentro inserisco il cavo perché ho messo questi elastici qua per avere la certezza che il telefono non possa cascare all'indietro quindi essendo chiuso qua dentro così non può cascare all'indietro perché ci sono questi elastici di sicurezza riesco a fare tutte le manovre lo stesso anche con gli elastici poi un po' d'abitudine si trova il modo per farlo quindi non perde nessun tempo questo ulteriore elastico invece azzurro collega questa parte qua con questo perché nel caso si dovesse rompere questo che non ho fatto certo per gli sport ed azioni però finora ha retto, si dovesse rompere questo qua casca giù e questo elastico mi dà una sicurezza che magari il telefono mi rimane pensolante piuttosto che cascare a terra, non è una sicurezza al 100% per chi volesse vedere ancora ulteriormente ecco qua qui all'interno uso la mia cuffia e questo è il mio microfono antivento così io riesco a parlare e questo si mette nel collo e quindi questo mi penso là vicino al collo quindi si sente bene anche se vado veloce in bicicletta ah e la lentina che adesso l'avevo messa dentro è un po' da battaglia però è comoda perché io la metto qua e se voglio fare una ripresa col grandangolo la inserisca al vuolo insomma non è niente di qualità però in alcune cose dosata sapientemente può essere divertente la lente per il fisheis anche se degrada molto la qualità va bene io spero che vi sia piaciuto questo video ragazzi vi metterò il link in descrizione di questo articolo per ora non l'ho trovato su amazon era in vendita solo da un negozio cinese e solo uno su ebay magari in futuro sarà disponibile anche da altre parti anche perché la trovo una cosa davvero molto utile ci ha messo tantissimo ad arrivare dalla cina ci ha messo proprio tanto è pronto però in pesata